buonasera a tutti i ragazzi bentornati sul mio canale bene dopo questa pausa oggi io ho visto la partitella pisa cremonese che si è disputata in val seriana sapete dove il pisa si trova in ritiro quindi fino al 30 luglio bene oggi mister d'angelo ha messo in campo nicolas piccinini marsura emerson caraccio qua in bilindale verra sibili buke di vitis un bel primo tempo io direi veramente bello bello perché ci siamo divertiti bene io sono divertito poi insomma visto durante la diretta insomma c'era la possibilità di messaggiare quindi un commentale insomma comunque la bella partita io mi è piaciuta la coppia coppia difensiva emerson caracciolo e bilindelli ovvio e poi mi è piaciuto qua in i miei piaciuto quelli poi il solito dei viti solito google sibili bravo bravo sibili veramente e il gol su assist di berra poi stata una deviazione anche la parte di difensore cremonese comunque marsura in sacca di testa e porta in vantaggio i nero azzurri per 1 a 0 nel primo tempo ripeto un primo tempo veramente bello bello io visto una squadra insomma pronta ecco pronta reattiva scorreva quindi bella bella veramente insomma nel secondo tempo poi ovviamente ci sono stati i cambi mister d'angelo ha fatto insomma girare fatto girare insomma tutti praticamente messo dentro anche fish fatto girare tutti e alla fine poi il morto la mi trova trovarà il pareggio bel gol da fuori area tirato una bordata insomma ma va bene io insomma lucca ancora prendere forse un po le misure beruato è stato massacrato da la faldi ha subito non so quanti e quindi insomma poi insomma poi vedremo poi per meglio durante durante questo periodo io organizzerò una live mi raccomando presenti con michele bufalino e saverio bargani l'intento è quello di di dare diciamo così insomma entriamo più e si approfondirà quelli che sono stati gli acquisti e le cessioni del pisa sporting club comunque che dire il 22 di luglio c'è stata ogni nuova iniezione di capitale da parte della capo calcio che è quella che sostanzialmente controlla il pisa sporting club che la capo calcio è dipende direttamente da cluster e c'è stata iniezione di capitale di 5 di un ulteriore 5 milioni di euro quindi per un totale di investimenti che sono arrivati a 25 milioni e che non è poco che non è poco allora queste inizioni capitale il via principale serve per gagno e la ristrutturazione e quindi il restyling della nostra arena garibaldi che sicuramente mi ha di bisogno e niente questo è diciamo così quello che sono sono le ultime novità sugli sugli investimenti ecco insomma diciamo quindi io penso che a questo punto insomma ci sia tutto l'intento non solo per far progredire ingagno insomma e quindi il settore giovanile ma anche per la ristrutturazione della nostra arena poi sono stati comunque degli investimenti per quanto riguarda i diciamo così i giocatori quindi sotto il lavoro di chiellini e con con il supporto ovviamente decorato chiaro niente quindi va bene così investimenti insomma ci sono la volontà c'è la qui io penso che insomma alla fine la società è solida come abbiamo sempre detto e penso che comunque insomma con questi con questi acquisti io penso che faremo un bel campionato magari magari ma lo andremo a vedere in seguito però ecco la butto lì magari una una punta ma caldi rilievo in più forse non farebbe male va bene poi si starà a vedere insomma ancora non è chiuso niente tutto aperto quindi c'è sempre tempo insomma per per ulteriori acquisti eccessioni ovvio penso che qualcuno mi ha domandato che mi amico ma secondo te marconi marconi io penso che oramai sia destinato ad altri lidi l'ascoli si è fatta avanti insomma ce ne sono ma comunque poi staremo a vedere insomma poi magari alla fine la società ma lo terranno lo terrà non credo però diciamo così poi l'andremo ripeto a valutare meglio con con l'aiuto di michele con l'aiuto di saverio e poi ovviamente il mio figlio matteo bene mentre sto parlando insomma nel senso è stato il sorteggio non sapete oggi la giornata di calendario come prima giornata il pisa affronterà la spalla beh si campionato si aprirà il 21 di agosto sabato e l'open day il 20 che è un venerdì ovvio e poi ci saranno poi ci saranno diciamo le solite turni fra settimanali e poi diciamo così ci sarà l'ue 18 aprile quindi per la pasquetta ci saranno le gare così come il 25 aprile e poi sarà legale il format natalizio 26 dicembre quindi secondo giorno di natale e poi il 29 dicembre campionato si fermerà dal 30 di dicembre al 14 di gennaio a poi ci saranno anche le nazionali quindi ci sarà questo stop non è nudi andare per i giorni fra settimanali eccetera eccetera tanto insomma ecco giusto tanto per darvi un'idea di quello che sarà il calendario e quelli che saranno le partite comunque più o meno il format rispecchia quello dell'anno scorso il precedente insomma ecco detto questo io direi che per ora abbiamo detto tutto insomma ecco la partitella l'abbiamo analizzata abbiamo visto gli ulteriori investimenti diciamo così da parte di di cluster quindi della capa calcio che niente che dire calendario allora la prima che si giocherà il 21 agosto noi affronteremo la squadra in casa ancora non sappiamo ma io non credo che ci siano abbonamenti non credo proprio perché proprio un discorso numerico quindi dovremmo andare anche lì sempre a biglietti ma ma va bene non lo so comunque sì io andrò allo stadio sicuramente però ci voleva ci voleva secondo me una riapertura una riapertura più sostanziosa magari con tamponi ovviamente che c'è green pass eccetera eccetera però insomma ecco magari non so mascherine mascherine insomma comprese però ecco magari ci voleva forse una riapertura ma vabbè staremo a vedere insomma quali saranno poi gli ulteriori sviluppi perché insomma per adesso buonamenti però la vedo difficile la vedo dura va bene ragazzi detto questo io ve l'ho detto vi ho anticipato ve lo ricordo che farò appena possibile poi ve lo dirò farò un video video a parte insomma faremo una live con una live con michele bufalino saverio bargania è sicura e certamente anche matteo beh io per questo video la finire qua se vi è piaciuto questo video pollice su mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e io ragazzi vi ricordo una cosa il pisa resta e tutto il resto passa alla prossima